era il 22 aprile 2017 iniziò tutto per gioco per una scommessa e questo video arriva a 10.000 mi piace fa una carriera allenatore con la lazio nessuno pensava che tutto ciò potesse realmente accadere e invece passiamo allo sport un indiscrezione ci dice che il nostro federico marconi è molto probabilmente il nuovo allenatore della lazio questa sicchia veramente una notizia inaspettata oddio mica troppo è a fine sotto mesi che il video arriva a 10.000 like che brutta fine che affare grazie